Luca Rizzo ormai da qualche giorno all'Atalanta quindi si può già parlare di quelle che sono sono state le tue impressioni sì ormai sono qui da lunedì ho delle sensazioni diciamo che mi porto già dietro dai primi giorni perché sono venuto giovedì e venerdì scorso anche se non mi sono allenato sono venuto appunto a fare le solite visite e ho chiacchierato col direttore e le sensazioni sono super positive ho cominciato ad allenarmi appunto da lunedì sono contento vedo una famiglia che lavora tutti insieme uniti per un grande obiettivo ecco appunto la domanda successiva era che impressione ti ha fatto l'Atalanta dal di dentro questo gruppo questa squadra che sta scrivendo nuove pagine di storia atalantina sì assolutamente impressione super positiva oltre appunto alla prima impressione delle strutture dopo conoscendo squadra staff in toto come lavora è veramente lo specchio di quello che poi sta sta raggiungendo grande spirito di sacrificio grandi lavoratori staff concentrato su migliorare proprio in toto tutti tutti i giocatori quindi si può fare veramente bene sono sono molto contento ecco Luca Rizzo appunto è contento di questa scelta anche perché qua ci sono importanti obiettivi da raggiungere esatto c'è la storia che sta scrivendo questa questa Atalanta e poi anche sotto il profilo personale è un grande scoglio da superare questo nel senso che mi hanno sempre detto che ho grandi potenzialità ma non riuscivo mai a esprimere al meglio credo che qui per il metodo di lavoro sia forse la migliore se non la migliore tra tra le squadre dove poter dimostrare quindi par di percepire grande entusiasmo umiltà ma grande entusiasmo sì assolutamente sono qua vengo dalla SPAL che mi stavo giocando la salvezza appunto adesso sono qui mi sto giocando l'Europa quindi sono assolutamente concentrato pronto al sacrificio perché ce n'è assolutamente bisogno si lavora con grande umiltà e si cerca giorno per giorno di migliorare sempre di più